Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti dopo un po' di tempo in una nuova guida definitiva Oggi parliamo dei case per pc E' proprio il caso di parlare di case Come ogni guida ragazzi, prima di cominciare, dato che approfondiremo molto il discorso Prendendo tutti i vari ambiti che c'entrano con la scelta di un case Vorremmo che trattaste questo video proprio come se fosse una pagina di un forum Quindi per accumulare tutta una serie di consigli, esperienze Tutto quello che è stato il vostro passato presente futuro riguardo questo argomento Qua sotto nei commenti Ma prima di questo ragazzi il video di oggi è in collaborazione con Lenovo e Invidia in particolare E vi parleremo del Legion 5 che abbiamo qua davanti Questo è un super notebook by Lenovo con un 12700H i7 e una 3060 E ha prestazioni in gaming veramente di alto livello Il notebook come tutti Lenovo è solido e pensato molto bene Il prolungamento dietro lo schermo permette di far defluire l'aria dalle lunghe sessioni di gaming Senza infastidirci direttamente sulla tastiera quando stiamo giocando E oltre a questo ha una dotazione di porte letteralmente impressionante per il notebook di adesso Compreso anche l'Ethernet Di cui la maggior parte è posizionata dietro per massimizzare anche l'ordine sulla postazione Oltre all'Ethernet come detto ha anche il Wi-Fi 6i Quindi per un pacchetto connettività al top In più grazie al display a 165Hz l'esperienza nei giochi anche più frenetici è ottima e soprattutto molto fluida E ovviamente certi livelli di prestazione possono essere raggiunti anche grazie a tecnologie come il DLSS Che nelle sue varie impostazioni permettono di raggiungere picchi di performance veramente elevati E su uno schermo così piccolo il DLSS anche in modalità performance o ultra performance difficilmente compromette la qualità visiva Oltretutto ovviamente oltre al DLSS è compresa anche tutta la suite di software implementazioni di Nvidia Tra cui Reflex in primis ma anche tutto quello che è l'ambito Nvidia Broadcast E tutti gli applicativi il pieno supporto di tutti i programmi professionali Perché alla fine è un i7 E questo rende il Legion 5 veramente un notebook perfetto sia per giocare che per lavorare Ovviamente se volete tutte le informazioni aggiuntive su questo portatile le trovate tutte in testa alla descrizione Ma torniamo a noi Il case ragazzi è qualcosa che deve andare a obiettivi Nel senso che è un prodotto che deve soddisfare almeno o la maggior parte di queste 5 o quelle che saranno punti che tratteremo E deve soddisfarli il meglio possibile Ovviamente detto questo chiaramente poi andiamo a spezzettare i vari punti Il case è estremamente personale Come tante altre componenti che abbiamo trattato come nel caso di mouse e tastiera Ma molto di più di tutte le altre componenti per pc Perché è probabilmente la cosa che è più estetica tra tutto Oltretutto deve andare in base al pc che volete fare e allo spazio che avete in casa ovviamente Perché parliamo di obiettivi? Perché di fatto un case deve anzitutto raggiungere un livello quello che volete voi dal vostro computer Ma deve farlo seguendo delle metriche Quindi innanzitutto la compatibilità Che è la cosa per cui non si può andare per sfizio Cioè deve esserci la compatibilità I case hanno diversi form factor Dal Minitix tanto dorato e lui Abbiamo anche il Midtower e il Fulltower ovviamente I gigadronticosi Questi sono principalmente le tre macro divisioni per quanto riguarda il mondo dei case Dove i Midtower sono chiaramente la stragrande maggioranza dei case in commercio Tutti o comunque buona parte di quelli che conoscete i più famosi Sono in questa categoria I Fulltower sono i gigadronticicosi Quelli che hanno veramente in pochi Perché hanno delle dimensioni troppo esagerate Molto importanti Che richiedono ovviamente anche un posizionamento dedicato Molto importante E i Minitix sono quelli che qui sul canale vedete molto spesso E che stanno prendendo sempre più piede Perché sono compatti e comodi? Questo standard di dimensioni ovviamente Impatta anche sulla scelta della scheda madre che ci sta Quindi le dimensioni del PC che andrete a ricreare poi all'interno Sì perché ovviamente a seconda della scheda madre che dovete acquistare A seconda delle dimensioni del case Appunto dovete acquistare l'una o l'altra in funzione a farcela entrare ovviamente Questo vale anche per i dissipatori del processore Perché se comprate un dissipatore ad aria Dovete controllare che le misure del vostro, della torre o delle doppia torre del dissipatore ad aria Sia compatibile con lo spazio che c'è nel case Senza contare anche gli only one Che ovviamente esattamente come le torri dei dissipatori ad aria Hanno bisogno di un determinato quantitativo di spazio per posizionare il radiatore E ventole che sia frontale, che sia superiore, che sia un 120 posteriore In ogni caso ci deve essere una predisposizione che vi permetta di installare anche radiatori Per questo su tutte le varie specifiche tecniche di tutte le pagine ufficiali dei case Che potreste voler comprare Ci sono riportate tutte queste specifiche in dimensioni Infatti noi spesso consigliamo come miglior only one l'artic Che è un only one qualità prezzo imbattibile Però noi non sappiamo 20, 30, 40, 50 mila persone che ci guardano Che case hanno E l'artic è un po' più spessa a livello di radiatore E quindi magari non ci sta Ma noi consigliamo il prodotto come chiunque altro E sta a voi controllare che stia e ci stia nel vostro case O nel case che volete acquistare Ultime due cose, l'alimentatore Sia l'alimentatore che anche la scheda video dovete controllare che ci stiano Ci sono alimentatori giganteschi che non ci stanno in alcuni case O nei suoi case mini TX ci vogliono gli SFX per esempio Ma come le schede video abbiamo visto adesso le 40-90 Non stanno mica in tutti i case Ma ogni case vi dà la lunghezza massima della scheda video C'è scritto nelle specifiche Quindi basta controllare e siete a posto Oltre a tutti gli slot di espansione E a tutto quello che può richiedere una scheda video O un alimentatore o qualsiasi altra componente Il punto qui è che gli standard che vi abbiamo detto Quindi i mini tower, mid tower, full tower Sono tutti standard dimensionali Che però non per forza di cose escludono la compatibilità con alcuni prodotti Ad esempio ci sono dei mini TX che di fatto possono includere un alimentatore standard ATX O ad esempio sempre rimanendo sui mini TX ci sono anche case che possono includere schede madri più grandi di una ATX Rimanendo comunque nello standard dimensionale dei mini tower Quindi per questo motivo questo lato compatibilità è riportato in tutte le specifiche E dovete assolutamente quando scegliete un case perché vi piace esteticamente Perché volete posizionarlo in un determinato modo all'interno del vostro setup Dovete controllare punto per punto tutte queste specifiche Il secondo punto ragazzi è il più importante di questa lista Che è la reflow Quando comprate un case non comprate solo qualcosa che alloggia i vostri componenti O meglio lo è Ma deve essere un'ottima permanenza Come se fosse una bella stanza d'hotel E non volete che i 50 gradi senza aria condizionata Uguale i vostri componenti vogliono stare al fresco Esatto E non in galera Non per forza dico Quando diciamo e spesso e volentieri si dice Si dà per scontato che il case non dia prestazioni Perché di fatto non dà niente in prestazioni il case Contribuisce alle prestazioni Contribuisce Perché un case ben areato è vincente Molti di voi dicono Eh ma provate sul banchetto che è più fresco Ma non è vero Un case ben areato è più fresco di un banchetto Andate a dire a un 11 Dynamic come il mio Che è più fresco che più caldo di un banchetto Con 9 ventole ad air flow 10 ventole ad air flow Direi proprio che non è così Infatti bisogna comprare per forza case Che permettano l'esecuzione di un flusso d'aria Che sia orizzontale Verticale Chiamatelo come volete A cammino Tutto quello che volete Ma deve essere un flusso Che permetta all'aria di entrare E di uscire in punti specifici E che non venga intracciato Non venga intracciato significa semplicemente Che il flusso d'aria che andate a ricreare E adesso ci arriviamo anche al punto di andare a ricreare Non deve essere intracciato da componenti Ma non solo componenti come scheda madre Scheda video Dissipatori importanti Anche cavi Cablaggio fatto male O comunque qualsiasi cosa che possa impedire Al flusso d'aria in entrata Di percorrere tutto il case E uscire da dove è stato previsto In questo caso per l'air flow Importante è capire che i case hanno una predisposizione all'air flow Non tutti i case usciti dalla fabbrica Ve li vendono con già un air flow Ben preparato Ben predisposto Perché il numero di ventole incluse all'interno della maggior parte dei case È spesso molto limitato È importante però da questo lato qui Per voi controllare Quanto potete andare a ricreare un flusso d'aria Perché le ventole aftermarket Ve le dovete recuperare in qualche modo Anche economiche Ben studiato come acquisto Non dovete per farlo spendere infinito Tipo 40 euro a ventola Con le Silent Pro Quel cavolo che è Ma dovete comunque andarlo a ricreare un flusso d'aria Quindi quello che vi serve sapere in questo punto È che il case sia predisposto All'installazione di un buon numero di ventole E non solo Ma tutte parettie traforate Mesh Appunto Che possano permettere all'aria Di entrare E uscire in maniera corretta La cosa bella è che ultimamente sono venute fuori tantissime idee Ho citato lo 11 Prima Non a caso E lo citerò Spesso in questo video Perché è stato il case probabilmente Più influente Negli ultimi anni Sotto questo punto di vista Ma anche al 6S di quest'anno Abbiamo visto idee innovative I PC Capovolte Anche nei nostri video Ne avete visto uno poco tempo fa Con una concezione Completamente girata Si sta innovando molto Da questo punto di vista E sull'artflow si sta sperimentando tanto Sia grazie a ventole Sempre migliori Sempre prestanti Sia anche al fatto che I case stanno migliorando Come materiali E anche come studi Perché ovviamente Anche i costi stanno aumentando E quindi comunque Anche le prestazioni Il miglioramento Ci stanno mettendo molto la testa Sì Il che è incredibile Perché se considerate Che il case È una delle cose Che può cambiare Tra virgolette Meno In un certo senso Perché si parla tanto di componenti Di quello che possono cambiare A livello interno A livello di prestazioni Tecnologie e tutto Il case È la scatola Quindi puoi ridisegnarla Però dopo un po' L'inventiva finisce In realtà Negli ultimi anni Si sta innovando parecchio In questo ambito Ed è qualcosa Che in realtà Non dovrebbe smuovere Così tanto il mercato Perché tu puoi tenerlo 15 anni 12 anni 10 anni Poi diventa vecchio Per il punto di vista Delle adozioni Perché cambiano Ma tranquillamente Dei sante Li fai Come si dice Nelle mie parti Con un case per pc Poi non si innova Sempre in positivo Tipo il case Quello in ZD Che ha la ventola Di traverso Che spinge aria Sulla scheda video Così a caso E come terzo punto L'espandibilità Abbiamo detto Che un case Ti può durare tanto Per cui Vale tanto la legge Chi spende Più spende meno Faccio sempre D'esempio Dello studente Universitario Con neanche una lira Che magari Prende un case Da 50 euro Poi a 23 anni A 25 e mezzo Va a lavorare Si prende il suo primo stipendio Come è successo A tutti noi L'abbiamo Il mio primo stipendio L'ho speso In queste cose qua L'ho devastato completamente Ci ho preso il pc E in quel caso Cosa fai? Cioè se devi fare upgrade Deve essere un minimo Espandibile A meno che non fai Una configurazione Da 5-600 euro Che è proprio A lì non puoi fare niente Però la best practice Impone che tu pensi Visto che è un componente Che volendo Tipo durare Ma tranquillamente Un botto Pensi anche All'espandibilità E per espandibilità Ovviamente Si include Più o meno tutto Quindi L'esempio più palese In questi tempi È la scheda video Chiaramente Se tu Parti da una configurazione Economica Con una scheda video Magari biventola Due slot Piccolissimo A livello di dimensioni E poi Appunto Evolvi Vuoi evolvere il tuo pc Senza cambiare Per forza di cose tutto Ti prendi Una 4080 Una 4070 Ti Quello che volete Grossa tre ventole Che occupa Quattro slot È bene Se il case Non lo devi Per forza cambiare Ma così come la scheda video Anche i dissipatori Se parti da qualcosa Di economico Magari Lo stock di AMD Perché non vuoi spendere Anche per il dissipatore E poi vuoi mettere qualcosa Devi pensare Già in fase di acquisto A qualcosa Che ti possa permettere Di metterlo Poi in futuro Qualche anno fa Si diceva Che liquidare Del cpu Era quasi inutile Perché Gli all-in-one Avevano raggiunto Un livello Che di fatto Non serviva più Liquidare Lo facevi dal punto di vista Estetico Adesso Con le nuove cpu Che sono uscite Che toccano i 95 gradi E forse anche di più Con un minimo di overclock Chi sa il ks Quando uscirà Quanto scalderà Però comunque Anche lì Adesso i 360 A volte Sono lì su 80 gradi Con 90 gradi Con il 13900k Fanno scollacco alla gola Quindi anche qua Avere magari Un 240 O un 360 O espandere a questi livelli qua Fino un 360 Può essere qualcosa di utile Tirare in ballo il discorso Dischi anche qui A livello di espandibilità È un po' anacronistico Però ci può stare Anche a livello È molto personale Anche lì Quindi anche magari La possibilità di avere Più slot di dischi Nel momento in cui Avete bisogno di più spazio Per lavorare Per stoccare dati Tutto quello che volete Nel momento in cui Prendete un case Economico Che magari ha Un solo slot posteriore Per dei dischi E degli SSD Potrebbe essere Un'idea a pensarci prima Anche se io In questo momento Se volete tanta archiviazione Io farei magari Un NVMe Qua cosa di esterno Da un tera Due tera E poi comunque Farei un SSD SATA Se non avete bisogno Una prestazione Per stoccare Magari di solito Sono gli ancoraggi dietro Così non dovete avere I bei apposta Infatti Perché gli harddisk Che io li reputo Comunque ormai Obsolescenza pura Quarto punto Degli obiettivi Che deve avere un case Molto personale Anche qui È il rumore Un case Ovviamente Contribuisce Sia con la sua possibilità Di espandere O presenza Di ventole O con la sua Diciamo Con le sue Paratiglie Contribuisce a far sentire Il rumore Delle ventole E delle altre parti Che alla fine Un PC senza ventole Non fa rumore Esatto Non fa rumore Perché diciamo Che è molto personale Perché l'attenzione Al rumore In un case È sempre di più Passata Quasi in secondo piano Per tanti utenti Perché giustamente I PC si sono evoluti Molto Le ventole Si stanno evolvendo Molto Il casino Che fanno le componenti Interne Con i 0db Le tecnologie Che aiutano appunto A minimizzare il rumore Si stanno riducendo parecchio Quindi anche tante soluzioni Addirittura insonorizzate Come quelli che c'erano I case Che c'erano anni fa Stanno pian piano Sparendo Però è chiaro Che a seconda Del vostro utilizzo Come detto È molto personale Quindi ci può stare Che voi se avete Il computer Di fianco al letto E volete Magari utilizzarlo Farlo andare Anche per fare Dei processi Durante la notte O magari giocate di fianco A vostro fratello Che deve dormire Perché il giorno dopo Deve andare a lavorare Ci può stare Che lo vogliate silenzioso Ma basta semplicemente Che dovete scaricare Un gioco su Steam Da 150 giga Non avete la fibra Esatto E scaricate con la 20 mega Ve ne arrivano 10 Ci mettete una volta A scaricare i giochi Non è che Se siete Io per me era così A me dava fastidio Sentire rumori Comunque delle ventole Che andavano O doverle impostare Magari su diversi parametri Per farli andare Quando scarichi Ovviamente questo Contribuisce tanto Comunque Però è una situazione Molto personale E passiamo Al quinto punto Che noi abbiamo messo Quinto ed ultimo Per diciamo Importanza Anche se in realtà Non è vero Perché di fatto Non è vero È l'ultimo per importanza Ma il primo per scelta E non prendiamoci in giro L'estetica È proprio il punto Più importante Perché alla fine È il punto Che si fa a comprare Il case Perché alla fine Il motore di acquisto Di un case È proprio l'estetica E qual è il problema Fin lì niente Perché nel momento In cui tu Guardi un case Che ti piace Verifichi Se le altre Parti che abbiamo detto Sono ben accettate Sono ben Funzionano bene Allora fin lì Tutto bene Ci può stare Il punto Che non è sempre così A volte Ci si fa trascinare Da prodotti Cinesi Prodotti comunque Non di alta qualità Con materiali Di basso livello E comunque Si va a comprare Un prodotto Magari sovrapprezzato Che magari ha meno performance Meno ventole Ed è un peccato L'estetica trae Molto in inganno Perché Non nascondiamocelo Ci sono tanti prodotti Che hanno Un'estetica super accattivante Super futuristica Super piena di led E magari hanno Una qualità costruttiva Davvero bassa Quindi da quel punto di vista Con ventole di merda Che fanno un cuore atomico Esattamente Quindi oltre al case Avete il problema Di dover magari Riadattare tutto il discorso Airflow Sostituendo tutte le ventole Preinstallate Ci sono delle cose Che ovviamente Per quanto riguarda L'estetica Traggono molto in inganno Quindi Semplicemente Ha un airflow di base Quindi di base Ha una predisposizione In passaggio dell'aria Studiato male E quindi non performante O magari addirittura Non ce l'ha O magari addirittura Non ce l'ha È bellissimo Però è tappato Perché è minimale O magari è pieno di vetro Ha tante paratie in vetro Ma se tante paratie in vetro Non danno sfogo all'aria Capite bene che Il pc soffoca In qualche modo Per cui bisogna stare Molto attenti Questa è una delle È più che un punto È un monito Perché comunque è giusto Perché anche noi Ci facciamo guidare Dalle sediche È normale Che quando spendi Comunque tanti soldi L'occhio un po' vuole Vuole la sua parte Però non deve offuscare Quelli che sono gli altri punti Mi raccomando Sempre prestare Prima all'airflow Che sia un pc Fatto bene Perché appunto E lo ritiriamo in ballo L'11 Ha dimostrato Di poter mettere vetro Una marea di RGB E airflow Tutte nello stesso punto Ed è forse il caso problematico Non è che prima non c'era No infatti Perché prima c'era Però così tanto vetro Poi sono usciti altri modelli Che vanno addirittura A migliorare Non migliorare oggettivamente Però L'Y60B Ottimizzare Facciamo ottimizzare Il concetto Mette ancora più vetro Forse ancora anche più bello Per me è anche più bello E comunque ha un ottimo airflow Quindi comunque Vedete come si stanno evolvendo Le cose Ed è molto positivo Però L'estetica Giusto Va bene Guardiamolo Però guardiamo anche Ovviamente L'airflow E ora c'è il punto scuro Il punto nascosto Punto più nascosto Ma anche ovviamente Il più importante Dei cinque obiettivi Che vi abbiamo trattato Per ora Ovviamente L'unico davvero fondamentale È quello delle compatibilità Perché altrimenti Non ci montate un pc All'interno Ma un case Può essere benissimo Bello esteticamente Una merda in airflow O viceversa Un portento in airflow È bruttissimo da vedere Quindi Ci può stare Che i cinque obiettivi Non siano tutti al top Ma tutto quanto Messo insieme Deve restituire Chiaramente Una buona qualità Prezzo Il punto è che Sui case Il case è Il prodotto Che ha più varianti Nel pc gaming Quindi Non esiste Che troviate Recensioni Per ogni tipo Di prodotto Ogni casa Anche arriva fino a 50 variabili diversi Quindi trovare recensioni O pretendere Che scriverci sotto Perché non parlate Di questo case qua Com'è Ma magari non l'abbiamo mai visto Ma anche lo sappiamo Che esiste Perché anche noi Spesso navigando Andando in giro Scopriamo che roba Che manco pensavamo Fosse uscita Magari dei player minori I player più grossi Li conosciamo Però non si può avere Quindi Tanto spetta a voi È forse Uno degli articoli Diciamo Più sottovalutati Ma il più rischioso Perché non ha Tante recensioni O comunque Si rischia di prendere Sempre i soliti modelli Che magari non ti piacciono Perché quelli Che hanno recensito Di là Gamer Nexus O gli altri Però ricordatevi Perché Gamer Nexus È in America Una cosa ve lo voglio dire Esatto E adesso noi andiamo Con le nostre fasce Perché Gamer Nexus Mette un prodotto Usa In fascia bassa Economico Che lo dice chiaramente Da noi costa più di 95 euro Quindi sui case Dove c'è tanta variabilità Di mercato Andare a vedere I video degli americani Va bene solo Dal punto di vista Del Conoscitivo Conoscitivo Sapere come è fatto Il prodotto Sapere quali sono Pregi e difetti Per diciamo Valutare l'acquisto Ma i pezzi sono proprio È un'altra cosa È un'altra storia E qui partono I consigli Ovviamente Come hai detto Ci sono tantissime varianti Quindi ragazzi Prendete quello Che abbiamo detto All'inizio del video Prendete i commenti Qua sotto Come forum Anche per questo Anche per consigliare Noi non possiamo scrivere Più di due Parlarne Sennò siamo qua Due anni e mezzo Esatto Quindi cerchiamo Di fare un po' Di categorizzazione Per fasce di prezzo Tendenzialmente Per darvi i consigli Delle migliori scelte O alcune Delle migliori scelte Per fascia E partendo appunto Dalla fascia economica Ormai lo sapete Perché negli ultimi mesi Vi abbiamo parlato Solo di pc economici Praticamente E fascia economica Noi intendiamo Sotto i 60 euro Sotto i 60 euro È l'entry level Del case Noi vi consigliamo L'oversteel Iridium Che avete visto In tantissimi nostri build E video Negli scorsi mesi Perché semplicemente È un prodotto Con ottime caratteristiche Ha un prezzo Di 50 euro Neanche 60 La cosa buona Da questo lato È che i case economici Almeno qua da noi Per come li conosciamo Sono molto diversi Da qualche anno fa Quindi non trovate più Il case sotto i 60 euro Che è fatto di lamiere E basta Di latta Di latta E basta E con tanti pezzi E con tanti pezzi di plastica Ma trovate già Dei buoni materiali Un buon utilizzo Anche degli accessori Delle porte Eccetera Tante ventole Non per forza Una cinesata bruttissima Piena di plastica Quindi Iridium Come gli oversteel In generale Che vi abbiamo fatto vedere Anche se superano Magari i 60 euro In alcuni modelli Sono ottimi Da questo punto di vista La fascia media L'abbiamo divisa Tra i 60 E i 120 euro Dove noi vi forniremo Un po' Una via di mezzo Tra queste due cifre Quello che vi diciamo adesso È leggermente Sopra il limite La fascia media È un case Da 69 euro A cui secondo me Vanno aggiunti Almeno due ventole Davanti Però comunque È un case Veramente valido E torniamo In uno dei brand Di cui ci siamo Innamorati di più Negli anni scorsi Tra l'altro Che ha contenuto Entrambi i nostri pc Per un po' di tempo Voi contate che Fantex Lian Li E Haight In questo momento Sono i nostri tre brand Anche Fractal Diciamo Che sta facendo Ottime cose Da questo lato qui Però Fantex È abbastanza conosciuta E ormai ne parliamo Veramente da anni In questo caso Questo Eclipse In particolare Appunto come hai detto Supera di poco I 60 euro Di media Quindi quando è disponibile Online Sta sui 70 All'incirca Anche adesso Su Amazon È disponibile A 69 euro Venduto da Kiss King E voi dite Eh Sì è così Inception E qui siamo E qui siamo molto Sul semplice Cioè non c'è Non ci sono troppi fronzoli Su questo modello In particolare Una bella Parationa mesh Frontale C'è una ventola Preinstallata C'è la predisposizione Per un po' Tutte le compatibilità Di scheda video Scheda madre Dissipatori Anche potete mettervi Dei bei radiatori C'è un po' Di tutto Un buon case Pecca solo Un pochettino Di estetica Di personalità Non di estetica È molto minimal Cosa che non manca Questo case Che è un po' Al limite Della fascia media Quasi vicino Alla fascia alta Sì infatti E parliamo di Fractal Con il suo Pop Air Che ha avuto Un discreto successo L'anno scorso È cicciato fuori Così in maniera Preponderante Perché ha un bel design Un bel airflow Appunto I punti Che abbiamo citato In questo video Vengono soddisfatti In maniera importante E anche il prezzo Per avere tutte queste L'evento L'RGB Il design E il materiale Buoni Vengono soddisfatti Fractal Come detto È uno dei brand Che sta facendo belle cose E la cosa buona È che è un mid-tower Sì ma riesce ad essere Comunque un po' Più compatto Della media Andiamo ora In fascia alta In fascia alta Abbiamo identificato Quei case Che vanno dai 120 Ai 200 euro E l'identificativo Proprio per eccellenza Di questa fascia È un case Che abbiamo citato Già più volte L'11 Dynamic Evo Che è il mio case Quello che avete visto È senza ombra di dubbio Un riferimento Ora come ora Nel mondo dei case Perché qui su questo canale Vedrete tra poco Il nuovo case NZXT Che di fatto È una copia Vedrete il nuovo case Della ASUS Staff Ah giusto Che è una copia Light probabilmente Lo vedete Ma Light no A personalità Non è una copia Esatto sì Infatti Però Questi case Infatti guardate Che c'è una copia Aurocool Quasi tutti Hanno Staranno O hanno fatto La loro versione Di 11 Perché di fatto Lo 11 Ha innovato Veramente tanto Come è costituito L'interno Di un case Lasciate perdere Il sandwich Dell'alimentatore Dietro la scheda madre Che ci può stare Come adozione Ma è proprio Come viene Rigirato il flusso Dell'aria Che ha ispirato Anche tanti altri Brand a fare Qualcosa di simile Perché Posizionamento Del radiatore O comunque Di un trittico Di ventole Sul lato Della scheda madre Per permettere La doppia vetrata E quindi Un'estetica maggiore Senza sacrificare L'airflow E mantenendo In questo caso Perché lo 11 È stato per tantissimo Tempo E tantissimi di voi L'hanno adottato Nell'intorno Dei 150 euro Quindi un ottimo prezzo Qua Con l'evo Siamo arrivati Su 200 Però capite bene Che è una formula Vincente A tutto tondo Altri due case Di fascia alta So che sono Veramente fighissimi È light y40 Che è appena uscito Ma letteralmente Uscito Settimana scorsa Ma soprattutto Il fractal Torrent Un altro case Bellissimo Qui siamo forse Un po' su Con il prezzo Rispetto al case Che vi stiamo proponendo Perché di fatto Appunto In altri paesi Costa di meno Effettivamente Qui siamo più sui 150 Per il torrent Compact E abbiamo già visto Diversi case Fractal Belli Ultimamente Il torrent È probabilmente L'identificativo Bellissimo Del midtower Per eccellenza Proprio Fighissimo Bellissimo Ma secondo me L'y40 Venderà come il pane Sì Soprattutto Appena si assesta Adesso è appena uscito Costo un po' di più Ma appena si assesta Sui 150 euro Proprio Come il pane Al momento C'è solo su alternate C'è su draco C'è su draco Esatto Quindi c'è ancora Poca disponibilità In generale Anche perché Tra l'altro Sì ci sono le pagine Prodotto Ma non è ancora Disponibilissimo Quindi ce ne sono pochi Però è veramente Bello come concetto Mantiene la formula O11 Passatemelo Anche se in formato Più compatto In questo caso però Con il nascondi alimentatore Sotto e non dietro Però in generale È proprio fighissimo C'è la predisposizione Per la verticale Con il riser figo Cioè è proprio bello Sopra i 200 euro È la fascia enthusiast E qua se uno Ha più di 200 euro Da spendere per i case Comprate un po' Il cacchio che volete Non siamo noi Che vi dobbiamo dare consigli Forse quello che prenderei In questo momento È l'ITY60 Perché a me piace Particolarmente Però se volete Full tower O robe strane Open Particolari Appese al muro A un certo punto Cioè I nostri consigli Arrivano fino a un certo punto Esatto Come quando vi diciamo Quando molti ci chiedono Ah perché non fate una build Sopra i 2500 euro Ma perché Non ci vuole un cazzo A fare una build Prendi le cose Che costano di più Le metti nel carrello E hai fatto una build Per cui diciamo che No Anche in questo caso Fate voi Diciamo che superando Superando questa cifra Diciamo Il limite è solo L'immaginazione Perché potete voler fare Quello che volete Quindi non venite A dirci Per un PC wall Che case potrei prendere Cioè Ci sono cose Che Google O vai sul nostro Parliamone Su Telegram O quello che volete Però di fatto Questi case Vi abbiamo girato Soddisfano Tutte le vostre esigenze Come PC gamer Ecco Quindi Basta qui Finita qui Ma è finita qui? No Mancano i Mini TX I Mini TX Io non so niente Fa lui Io bevo un po' d'acqua Perché non c'ho vuole Prego È il tuo momento Purtroppo Non è stato Un grandissimo anno Per i Mini TX Ci sono stati Tanti modelli belli Ma in particolare Noi vi abbiamo portato Anche meno video Sui Mini TX Perché di fatto L'ultimo che avete visto È probabilmente Il migliore In assoluto Di quelli usciti Ultimamente E disponibili ad oggi E che tra l'altro Ha avuto già Un successo Della Madonna Con la sua prima versione Di Dan A4 Semplicemente adesso Ha la possibilità Di installare anche Un radiatore Da 2,40 Quindi il Dan A4 H2O H20 Non ho ancora capito Come si scrive Come si dice È sicuramente Il consiglio migliore Anche per il prezzo Che ha Nel D è uno dei top Costruttori In questo momento C'è un cazzo da fare Anche qui Mini TX Spesso e volentieri Superano la soglia Dei 200 euro Quindi essendo molto nicchia Raga Il consiglio È semplicemente Quello di Vi piace un modello Informatevi bene Prima di comprarlo Perché i Mini TX Hanno tante criticità Lato Airflow Lato compatibilità Però c'è il Cooler Master 60 euro su Amazon C'è sempre il Cooler Master L'NR Che potete Virare per una build Mini TX Quello è un non consiglio Ne avete sentito parlare Talmente tanto Che ormai Sì esatto Quindi ragazzi Questa è la nostra Video definitiva Su come scegliere Un case per PC Vi abbiamo dato Alcuni riferimenti Da adesso in poi Usciranno video Dove vi diremo magari Top case Dell'anno O del periodo Quando usciranno Anzi Fateci sapere Se vi piacerebbe E vederli un po' più spesso Parlare di case Anche non per forza Di Mini TX Giustamente Ovviamente come detto Lo spazio nei commenti Per arricchire il video È tutto vostro E alla prossima Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.